CICD con Docker e GitHub Actions. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a implementare un ciclo di vita completo per applicazioni containerizzate, dalla scrittura del codice alla build dell'immagine fino al rilascio in un servizio di hosting. Il ciclo di vita di un'applicazione containerizzata è relativamente semplice. Facciamo un disegnino giusto per capirci e poi passiamo subito all'azione con il codice. Ok, allora proseguo dalla stessa lavagna dove avevo spiegato i concetti di Docker, container e così via. Metto il link al video precedente qui sotto e mi raccomando se da questo video imparerai qualcosa metti un mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato sui nuovi contenuti. Va bene, allora andiamo avanti e vediamo che cos'è il ciclo di vita. Allora, DevOps Cycle per un'applicazione containerizzata. Facciamo così. Noi abbiamo la nostra applicazione, o meglio abbiamo il nostro developer qui che sulla sua postazione di lavoro va a fare la sua applicazione. Bellissimo questo schermo. Così sviluppa la sua applicazione. Oltre che aver sviluppato la sua app avrà anche cura di creare quello che è un Dockerfile. Lo scriviamo così, così si vede bene. Dockerfile. Ok? Molto importante. Il Dockerfile è la ricetta, è quel file che descrive come deve essere composta la nostra immagine e più avanti vedremo proprio in questo video come crearne uno molto semplice. Quindi creiamo la nostra applicazione e diamo le istruzioni all'engine di Docker con un Dockerfile su come impacchettarla in formato container andando ad includere tutte le sue dipendenze, configurazioni e librerie di cui ha bisogno. Quando facciamo build, non così, quando facciamo build del Dockerfile e quindi scriviamo build, lo facciamo con docker build e gli diamo il Dockerfile, quello che succede è che creiamo l'immagine nella macchina del developer, ma noi ovviamente la vogliamo pubblicare e rendere disponibile in registri pubblici o anche privati, insomma se sono aziendali, con autenticazione, per poter poi fare il rilascio in ambienti di test, produzione e così via. Quindi una volta fatto questo andiamo a fare non solo la build ma lo disegniamo così, no il rosso sembra un qualcosa di pericolo, lo facciamo in viola, andiamo a fare un push, effettivamente ci sarà un docker push in quello che è un, ma lo mettiamo così, un registry, cioè un deposito dove, invece che di sorgenti come può essere un reposito di git, è un deposito di immagini docker, in questo caso nel video più avanti nel tutorial io utilizzerò docker hub perché è gratuito per scopi personali e quindi va benissimo così, poi ce ne sono tanti, ci sono leisure container registry, c'è appunto il docker hub di git, di docker e così via. Quindi facciamo il push, in questa maniera l'immagine diventa disponibile e scaricabile da chiunque se la rendo pubblica o privata con autenticazione se voglio che sia appunto accessibile solo con una password. Ok, fatto questo l'immagine è disponibile in un registry e la posso andare ad installare nei miei ambienti di destinazione, per esempio prod e in questo caso io ho utilizzato Azure Web App Service che è in grado di supporto alle applicazioni containerizzate con docker e quindi tramite delle actions e dei comandi andrò a dire a questo ambiente sostanzialmente di prendersi l'immagine aggiornata, io voglio, a questo punto voglio il testo, faccio install o update insomma della mia applicazione. Poi questa applicazione appunto verrà utilizzata dagli utenti, qui abbiamo gli utenti che accederanno tramite browser e così via all'applicazione o telefonino o quello che è e poi il ciclo riprende, quindi questa è magari faccio la versione 1 push della v1, qui nel mio docker hub avrò disponibile la v1 e qui installo la v1. Benissimo, una volta che ho fatto questo, il ciclo continua, gli developer producono la v2, una volta viene poi promossa, ha fatto il push della versione 2, sarà disponibile la versione 2 e io vado a fare l'aggiornamento dei miei ambienti utilizzando la versione 2 e esponendola quindi agli utenti. Questo è il ciclo di base, non c'è molto altro, andiamo ad implementarlo con che cosa? Visual Studio Code, utilizzeremo qui Visual Studio Code per fare il lavoro del developer con il plugin dedicato a Docker, qui appunto l'abbiamo già detto, utilizzo Docker Hub come registry e qui per gli ambienti di produzione vado ad utilizzare Azure Web App Service. Per orchestrare tutto quanto, tutto questo magico mondo, diciamo, ok, tutto questo è ospitato in GitHub sia in termini di sorgenti e l'automazione che fa build, push e deployment nell'ambiente di produzione è utilizzato sempre con GitHub, le actions. Fine delle parole, andiamo alla pratica. Benissimo, eccoci nell'ambiente di sviluppo. Allora cerco di rendere questo tutorial il più agnostico possibile per quanto riguarda le tecnologie coinvolte per l'applicazione che andiamo a sviluppare, quindi sostanzialmente a impacchettare come container, immagine, eccetera. Quindi sostanzialmente non userò nessuna tecnologia, nel senso che utilizzerò Nginx come immagine base, che è uno dei più diffusi web server al mondo. Il mio obiettivo è quello di creare un'immagine personalizzata, quindi sostituire quella che è l'home page con quella che è di default di Nginx, che la vedremo, ce ne mettiamo una personalizzata, impacchettiamo il tutto e pubblichiamo e facciamo CICD. Allora, giusto per renderci conto cos'è l'immagine base di Nginx, facciamo docker pull Nginx e così la scarichiamo, l'ultima versione di default è latest, benissimo. Poi cosa faccio? Vado a eseguire, faccio docker run, va bene, mi espongo la porta 80 del container, la mia 8080 fisica del mio pc, due punti, si mappa su quella 80 del container in esecuzione e Nginx. Ok, a questo punto ho un paio di alternative, posso andare da docker desktop, faccio qui su containers e posso fare opening browser, che è molto comodo. E infatti, welcome to Nginx, quindi questa qui è l'home page che noi andiamo a sostituire, creeremo l'immagine personalizzata, pubblichiamo CICD. Bene, a questo punto uccido il container, molto bene, e apro un nuovo terminale. Lo uccido così, via. Ok, quello che ho fatto là con l'interfaccia, questo che ho fatto qui con l'interfaccia di docker desktop, avrei potuto fare un docker stop e un docker remove, però così ho fatto vedere anche che posso fare le operazioni di base di avvio, stop, restart e cancellazione dei container anche dall'interfaccia grafica. Allora, prima cosa, facciamo un banalissimo file HTML, index.html, creiamo la nostra pagina personalizzata e mettiamo Michael Ferracin Docker Tutorial CI CD. E a questo punto andiamo a creare il nostro, la nostra immagine personalizzata, ci serve un docker file. Il docker file, appunto quella ricetta, è un file che descrive come deve essere composta la nostra immagine. Tutti i docker file, a parte quelle delle immagini base, ma te la lasciamo, tutti i docker file partono da un from, ok, e la nostra parte da Nginx, due punti latest. Ci prendiamo sempre l'ultima versione. Attenzione, non è una super best practice, ok, fare delle CI CD prendendo da un latest, perché è un tag dinamico quando quelli di Nginx pubblicano una nuova versione di Nginx, latest appunto è una nuova versione. Quindi in realtà io non so di preciso che cosa sto compilando, ok, se non che l'ultima versione di Nginx potrebbe essere la... ma mi cambia, quindi non ne ho completamente il controllo. Se devi fare qualcosa di produzione, qui mettiamo una versione fissa, ok, che può essere una di queste che ci vengono suggerite o che si possono consultare dalla pagina ufficiale. Comunque, per semplicità mettiamo latest, visto che uno ci deve essere. E che cosa facciamo? Andiamo a sostituire la nostra, l'home page. Ora l'home page sta dentro la cartella predefinita di Nginx e la cartella predefinita è questa user share Nginx HTML. Allora, noi come lo utilizziamo questo Dockerfile? Allora facciamo finta che siamo dentro al container, siamo dentro al container in esecuzione, siamo dentro al container Nginx e sappiamo che la cartella predefinita è questa. cosa ci devo fare? Devo sostituire, devo copiare, faccio un copy di quello che è il mio index.html, lo copio in user share Nginx HTML, index.html, mantengo il nome. Immagine semplicissima, abbiamo finito. Quindi quando noi facciamo il Docker build di questo Dockerfile, verrà copiato quello che è il nostro file index.html, questo qui che abbiamo creato, e andrà a sovrascrivere quello che già c'è di default dentro il container Nginx. Andiamo a dare il comando di build, posso fare scrivendo un Docker build qui, poi dando la cartella del contest e tutto quanto, quindi src, docker, docker, eccoci qua, e poi gli do il nome, meno meno name, che potrebbe essere fenixita barra docker, sia i cd, due punti, latest. non è meno name, meno meno name, errore mio, è meno t tag. Ok, quindi l'immagine viene compilata e noi abbiamo in locale, se io faccio Docker images, ce ne sono troppe, faccio sls, fenixita, eccola qua. Docker si ha i cd, è presente, clear. Benissimo. Avrei potuto fare in un'altra maniera, clicc destro se hai plugin di Visual Studio Code, build image, ci viene chiesto il nome, quindi fenixita barra docker cd tutorial, due punti, latest, e ci viene creato il comando al posto nostro, insomma. Ecco, quindi due alternative per fare la stessa cosa. Posso andare a consultare il catalogo delle immagini qui, ok, quindi scrivo fenix, docker cd tutorial, va bene, questa qui è quella appena fatta, la butto via, remove, questo sarebbe un docker image rm, nome dell'immagine, la butto via, qui può essere molto più pratico per fare la pulizia, eccetera. Allora, docker cd, benissimo, questa qui adesso la voglio pubblicare nel mio account di docker hub che utilizzo come docker registry, perché abbiamo visto nei disegni di teoria di poco fa, qual è il ciclo di gestione del container e quindi vado su, devo pubblicare la mia immagine nel mio container registry, che in questo caso utilizzo docker hub. Ok, per fare il push di questa immagine su docker hub devo fare un docker login, che mi fa fare il login di default su docker hub. Quindi metto il mio username, metto la mia password e vediamo che il login va da buon fine. Ok, login effettuato, ora posso fare il docker push, quindi faccio docker push e devo dare il nome dell'immagine, che era phoenix ita, non a caso, cioè deve corrispondere alla prima parte, al nome del mio repository su docker hub e abbiamo visto che il nome era docker cicd. Eccolo qua, faccio così, viene fatto il push. Vedi come riutilizza i layer dell'immagine nginx, l'unica cosa effettivamente che viene, di cui viene fatto il push è lo strato, il layer che rappresenta il mio copy. Ora, perfetto, vado su docker hub, eccoci di qua, faccio un f5 e abbiamo la mia immagine pubblicamente accessibile, vediamo qui, che è public docker cicd. A questo punto la proviamo e la proviamo anche in locale, così vediamo che la sostituzione della home page sia andata. Quindi facciamo docker run, allora docker run, meno p, 8080 su 80, phoenix ita, docker cicd. Ok, vado qui, comodo, clicco sul browser, eccoci qua, Michele Ferracini docker tutorial cssd, quindi la sostituzione è andata a buon fine, è tutto corretto e quindi abbiamo pubblicato un'immagine con la nostra applicazione custom, diciamo. Ok, allora il mio sito risponde a questo indirizzo sui servizi Azure e attualmente è vuoto. Quindi andiamo a fare il push, andiamo a fare l'intera pipeline con GitHub Actions per pubblicare qui dentro. Ok, allora ho pubblicato tutto quello che abbiamo fatto nel mio repo su GitHub, pronto per fare il workflow, vado su Actions, faccio un workflow tutto mio, non uso nessun template perché l'ho preparato in anticipo, altrimenti ci metteremo una vita e l'incollo della clipboard. Allora, lo commentiamo velocemente, gli abbiamo dato un nome, vado un po' qui in giù così si vede meglio. Ok, abbiamo i trigger sul branch main oppure lo possiamo fare a partire a mano, è composto dai seguenti job. Il primo di build che viene è eseguito in una macchina Ubuntu. Andiamo a fare il check out dei sorgenti e il login su GitHub, su Docker Hub, dove vado a caricare il, dove andrò a caricare la mia immagine compilata nei passi successivi. Infatti prima abbiamo fatto dentro Visual Studio Code il login a mano. Quindi a questa action gli passo il mio username e la password in formato secret che ti ricordo si vanno ad impostare nella sezione settings e poi secret actions. Qui io li ho già impostati in anticipo. Dopodiché andiamo a fare la build con l'action build and push, tutto unico, dove ho impostato il context su cui deve girare il comando build, quindi questo è il path di base dove girerà il comando docker build. Con il push attivo, quindi in automatico subito dopo aver fatto la build dell'immagine viene fatta la push. Questi sono i tag che vengono applicati, questo è quello di default, la nomenclatura di default per Docker Hub, quindi index docker.io. Questo è il mio username, fenixcita, e poi docker.cd e come tag gli viene messo lo SHA di GitHub, lo SHA di questo commit di git da cui si origina tutto quanto. Il file dockerfile viene trovato, si trova in questo percorso del mio repository, quindi questo è il build di questo dockerfile. Una volta che abbiamo fatto build and push, possiamo fare il deploy che ha bisogno che build finisca su un ambiente virtuale chiamato di produzione, dove andiamo ad utilizzare il task specifico per le web app di Azure, dove andiamo a dire che l'app name si chiama così, preso proprio qui da Azure in questo modo, andiamo a dire in quale slot, altre informazioni, altri secret per autenticarci all'interno di Azure e poter sostituire o aggiornare l'applicazione e gli dico quale immagine utilizzare di nuovo, questo qui è il valore identico a questo. quindi faccio start commit, commit new file, nel frattempo che aspettiamo andiamo a vedere come si sta comportando, quindi diamo la build, login, build and push nell'agent di GitHub, perfetto, build and push completato, abbiamo la fase di deploy, andiamo, 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 ok, deploy to Azure web app, successfully deployed to app service, benissimo, job completato, questo è l'urlo, io ci clicco sopra e abbiamo l'applicazione correttamente aggiornata. Dall'interno di Azure possiamo proprio vedere che è configurato per essere, per utilizzare la mia immagine, questo è il tag 67299 che possiamo ritrovare dentro qui sul mio Docker Hub, eccolo qui, appena stato caricato 607 eccetera eccetera, quindi è proprio l'ultima versione appena compilata e pushata. Bene, per oggi sul container CICD ci fermiamo qui, che cosa abbiamo visto? quindi come creare un'immagine, come caricarla in un container registry, in questo caso Docker Hub, e poi come caricarla in un servizio che è compatibile con le applicazioni containerizzate, in questo caso io ho utilizzato Azure Lab Service, ma potrebbe essere un cluster Kubernetes, un Docker server da qualche parte, insomma basta che sia compatibile con le immagini Docker. A questo punto io ti saluto e alla prossima, ciao!